salve a tutti ragazzi video misterioso registrato in germania quindi questo oggetto stava a stugart germania quindi guardiamolo bene ragazzi perché certamente non è qualcosa che conosciamo come sempre questi video sono misteriosi ma allo stesso tempo curiosi perché non riusciamo a comprendere cosa siano anche se la maggior parte di noi lo sa bene cosa sono alcuni potrebbero essere dei falsi ma alcuni anzi forse molti sono reali solo che la spiegazione razionale non c'è anche in questo video quando vedrete il finale di questo video ci rendiamo conto che al finale ci troviamo davanti a qualcosa che non sappiamo che la nostra comprensione non riesce a capire quindi qualcosa che non va non è per noi ragazzi questo è il discorso non sappiamo cosa si nasconde cosa c'è cosa ci nascondono perché certamente tutti questi avvistamenti io posso capire uno falso due falsi tre falsi ma non tutti quelli che vediamo tutti i giorni in tutti i luoghi del mondo guardate adesso ragazzi vedete semplicemente va via quindi penso che il video è più che reale e come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero ragazzi al prossimo video ragazzi al prossimo video ragazzi al prossimo video